Ciao a tutti, io sono Rotos, bentornati sul mio canale, sono qui con una cosa un po' speciale, infatti come potete vedere non potete vedermi, ma diciamo che ho trovato una via di mezzo usando FaceRig, un software scaricabile da Steam, non gratuito, adesso che è in saldo 750 ho approfittato proprio dei saldi per potermelo procurare, come vedete non potete vedermi dato che non sono particolarmente etusiasta di mostrarmi in pubblico, o perlomeno di fare video dove ci sono io sempre, nel senso non è quello che voglio fare, però potete vedere almeno qualcuno che parla con la mia voce e che muove la bocca a tempo e che muove anche la testa a tempo, è estremamente divertente dondolare la testa a destra a sinistra, vedere questo babbo natale fare la stessa identica cosa e farlo anche con uno sguardo molto truce e incazzato, si è molto divertente, ok dicevo a parte questo, sono da dire truccato come babbo natale in realtà io sono probabilmente in pigiama anche se voi non lo sapete, e questa è una cosa che, uno dei motivi per cui non mi piace mostrarmi in web, no sto scherzando, semplicemente sono qui con voi per farvi un importante annuncio, no non è vero, sono qui per ringraziarvi e per farvi gli auguri, non ho avuto occasione in quest'ultimo periodo di far uscire molti video, soprattutto non ho avuto occasione di parlare con voi, vi volevo ringraziarvi, dove cazzo guarda sto babbo natale, sono qua, qua, aspetta un attimo, non riesce a vedere i miei occhi, i miei occhi, vabbè io ci ho provato, volevo ringraziarvi per la cifra che siete diventati, se penso a quando facevo il video di ringraziamento dicendo vabbè potrei quasi offrirvi la pizza a tutti, a vabbè adesso non riuscirei più tanto a offrirvi la pizza a tutti, a se vi offrissi la pizza a tutti dovrei aprire un mutuo, è cambiata un po' la situazione, ecco mettiamola così, io sono felice di essere arrivato fin qua, certo non sono quei numeroni che dici è pazzesco, è incredibile, sicuramente rispetto all'inizio è incredibile, questo senza ombra di dubbio, siamo quasi 1900 e sono sicuro che a gennaio raggiungeremo i 2000 iscritti, e la cosa mi rende felicissimo, senza ombra di dubbio, mi dispiace tantissimo non essere riuscito a far pubblicare, a far pubblicare, come se ci fosse qualcuno che li pubblicasse al posto mio, a pubblicare nuovi video, mi dispiace, è stato un periodo di fuoco, non è una metafora, davvero mi andava a fuoco il culo, sono stato estremamente impegnato, sono riuscito finalmente a lavorarmi dopo tanto tempo, cioè nel senso non nota, non volevo semplicemente metterlo come dire, ah ho fatto questo, l'ho fatto, basta, sarò sempre impegnato con l'università, non finisce, gli esami non finiscono mai, è vero, è così, abituatevi, se mai doveste andare all'università sappiatelo, non finiscono mai, non finirà mai l'università, quindi tenetevi ben pronti. Detto questo, mi dispiace appunto non essere riuscito a far video, soprattutto in un periodo in cui, volendo parlare anche terra a terra, dicembre è il periodo in cui YouTube tira un po' i soldi in faccia alle YouTuber, dato che con Natale, con le feste, pubblicità bomba, si riesce a guadagnare un pedino di più, sicuramente quell'aspetto è andato, ma soprattutto mi dispiace che sia andato l'aspetto non economico, ma sociale, riferendomi a voi, nel senso, è uscito Afterbirth, avete avuto solo 9 video in 2 mesi da quando è uscito, non è tanto, nel senso, se penso che faccio uscire un video un giorno sì, un giorno no, 2 mesi, dovrebbero essere 30 video, ne sono usciti 10, 9, e mi dispiace, mi dispiace adesso un periodo un pochino più leggero, forse dovrei riuscire adesso ad avere un pochino più di tempo, per me soprattutto, perché il problema principale è riuscire ad essere nella forma mentale adeguata per poter fare video, e mi viene a ridere, penso che sia Babbo Natale che stia dicendo questo, poi magari cambia un'altra volta, al prossimo video o vlog ci metterò qualcuno che non è Babbo Natale. E niente, tanti discorsi solo per dire tutto questo, deve essere snervante parlare con uno che non ti guarda negli occhi, mi dispiace che sia così. Cosa volevo annunciare? Un pochino come la conclusione giusto delle tesi, la slide finale, sviluppi, futuri e conclusioni. In futuro mi piacerebbe riuscire ad essere appunto più attivo, ritornare a un regime abbastanza elevato, maledizione a me che ho detto elevato, non vedo l'ora che l'ho zetto di capo per agguantarlo, solo per poterli tirare una testata di rimando. Come video, ritornare diciamo a un regime, non dico magari al video giorno ad un tempo, che forse era un po' pazzo, ma almeno riuscire a farne 5 a settimana? Forse è un po' tantino come pretesa, però sarebbe ottimale, non so, adesso se riuscissi in teoria mi basterebbe, anche se è brutto da dire, però riuscire a fare un giorno tanti video di fila e questo mi permetterebbe di averne per i giorni successivi. È brutto perché si perde l'istantaneità del rapporto con gli utenti che ti danno i consigli, ti rispondono, ti dicono, però è decisamente l'unica maniera che ho per riuscire a rimanere in pari con voi. Per quanto riguarda le live, vi ricordo che ogni lunedì dalle 9 alle 23.30, poi si sfora sempre, diciamo dai 9 a mezzanotte, c'è Glitcher Super Show, dove assieme a Mazinga Z92, Mac, ovvero Glitcher, e alla mente di Edux facciamo il nostro piccolo show, abbiamo anche una sigla, quindi non perdetevela, e giochiamo a The Binding of Isaac Hathber come primo gioco, poi come secondo o terzo gioco ogni volta varia, abbiamo sempre delle novità sul banco, quindi cerchiamo sempre di portare, no, no, non registrarmi tutto, ho fatto un casino, ok, ok, no, scusate, scusate, ok, non lo faccio più, ho fatto il casino. Spero magari voi non avete visto niente, è solo io che mi sto anziando, però a me era comparsa tutta l'interfaccia che potrebbe essere fastidiosa. Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato fino adesso, e niente, io spero di continuare così, per quanto riguarda le live appunto, pensavo già di concludere e invece me ne ho scordato qualcosa. Pensavo adesso, forse che è un periodo d'esame un pochino più tempo libero per me, di ricominciare a fare qualche live mia, che non faccio da una vita, davvero tantissimo che non faccio le live mie, perché ci sono dei giochi secondo me che per trattarli è necessario fare qualcosa come una live, per la modalità in cui sono impostati. Quindi, quando ci saranno vi avvertirò, metterò l'annuncio e accorrete, non vedo l'ora di vedervi, di fare, ho tanti giochi, voglio fare tanti giochi e non vedo l'ora appunto di avventurarmi in essi. Forse adesso ho davvero finito. Vi auguro un buon Natale ritardo, dato che è il 27 dicembre, è la 6 di sera, al momento in cui sto registrando questo video, e un felice anno nuovo, buon 2016, speriamo di vederci, di divertirci ancora un sacco assieme nel 2016. Potevo forse fare un contest per questo video, per i quasi 2000 iscritti, ma più che fare contest video, stavo pensando quasi di incominciare, se riuscissi a fare appunto video, live, perdono, con una certa, diciamo rispettando una certa scaletta, dire, non so, un giorno a settimana sapete che io ho la live? Non credo, non sarà mai possibile, però qualcosa di simile. Se riuscissi a fare così, vorrei lasciare ogni volta dei giochi, cioè sicuramente sono più i giochi che rilascerei rispetto a quelli di un contest, avrei più feedback da parte vostra, perché seguireste le mie live, magari vi interessereste a giochi che non vedete, e niente, vediamo un po' come si svolge. Io non ho idea di cosa mi riservi il futuro, commetto che non lo sapete neanche, anzi, deve essere brutto saperlo. Spero non lo sappiate anche voi, che vi si stenda una strada davanti. E niente, detto questo, il vostro buon babbo Natale, tristissimo, vi augura un buon nuovo anno, un buon 2016. Ci vediamo in futuro. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per il supporto che mi avete dato finora. Ciao, non so come si ferma la registrazione, come faccio a fermare la registrazione? Qualcuno mi dica come si ferma la registrazione?